buonasera buon san valentino altrettanto vedete il buddha si vede bene adesso posso postarvi dove andiamo andiamo a consigliato da un amico a colite no andiamo a fare un massaggio siamo nella via principale l'unica la walk in street passa un po di gente neanche tanto oggi perché sono tutti a mangiare noi approfittiamo dieta no andiamo a fare il massaggio prima il massaggio gentilmente offerto dalla Gabriella allora andiamo a mangiare guarda che bello guarda che bello ci sono i pesci si ho visto anche un ladyboy sicuramente bene buona serata speriamo che sia posto e dopo mangiare noi diciamo andiamo a fare massaggi e dopo a mangiare non lo so cosa troviamo take away si usciremo da quale sarà tutto chiuso qua chiudono presto eh dovremmo fare una lettera di richiamo alle 10 alle 10 hanno deciso che non si mangia e vera invece 24 su 24 si è ma mezzanotte chiudono 7 11 no ma i bar i bar di a parte che rasta bar ciao ciao